Le terme eugane si stanno organizzando. Da lunedì apriranno i battenti le piscine e i centri termali con i loro servizi come indicato dalla nuova ordinanza regionale. Gli albergatori si stanno preparando ad accogliere i clienti e l'estate 2020 in queste località venete possono rappresentare una valida alternativa alla spiaggia anche per chi non era abituato a vivere la piscina. Grande soddisfazione per il comparto in grande sofferenza da mesi. Le linee guida per le aperture e le regole che dovranno osservare gli imprenditori ma anche i clienti sono contenute nella nuova ordinanza firmata dal presidente regionale Veneto Luca Zaia.